Una scienza dell'oggi e non del domani, che possa avviare una cultura del farmaco non su base esclusivamente statistica, ma anche genetica. La farmacogenomica è stata la protagonista del convegno organizzato dall'Università degli Studi di Roma Torvergata e dalla The Golden Helix Foundation. Ospiti e studenti internazionali hanno preso parte al secondo step del progetto europeo Ubiquitous Pharmacogenomics. È una scienza che è di oggi e non di domani, perché ognuno di noi sa che quando assume un farmaco a priori non sa se funziona, se gli fa bene, se gli fa male, oppure addirittura se non fa niente, come accade nella maggioranza dei casi. Oggi abbiamo una risposta a tutto questo e sappiamo addirittura poter analizzare il DNA di alcune persone, perché ognuno di noi è diverso, e poter decidere se assumere quel farmaco perché su di te funziona oppure non funziona. E questo è importante dal punto di vista dell'efficacia, perché ci mette in condizione di far funzionare sulle persone giuste, al momento giusto e nella dose giusta. Ecco, questa scienza fa proprio questo. Questa scienza è importante, noi abbiamo voluto qui allargare il discorso agli studenti, perché pensiamo che è dai giovani che deve partire questa cultura dell'assunzione del farmaco, che è diversa da come eravamo abituati noi, cioè su una base esclusivamente statistica, quindi noi ci crediamo, questo è un gruppo europeo importante che sta facendo questi studi. Per tutta l'Europa abbiamo pensato di partire dall'Inghilterra lo scorso anno, il secondo lo facciamo qui a Roma, il terzo probabilmente in Grecia o da altre parti. I relatori hanno sottolineato l'importanza di muoversi all'interno del perimetro europeo per diffondere il più possibile trattamenti di alto livello. Una sfida che, secondo i partecipanti, ha bisogno di un'alleanza fra mondo accademico, con l'apporto della ricerca, istituzioni e industria farmaceutica. Direi che oggi non c'è nessun paese che è proprio l'ideale, nel senso che ha tutti quanti gli elementi. L'Italia è abbastanza avanti per quanto riguarda la concettualizzazione e anche per quanto riguarda alcuni specifici settori di ricerca, insomma in cui effettivamente siamo avanti, basti pensare che per le terapie geniche, diciamo delle sei registrate all'EMA, cioè all'Agenzia Europea del Farmaco, quattro sono italiane, quindi vuol dire che significa che abbiamo dato un contributo importante. È un percorso che l'Europa sta costruendo insieme, cercheremo di fare meglio sistema, cioè cercheremo di far sì che iniziative come questa importantissima di Tor Vergata cadano in un sistema molto frammentato, ma cerchino in qualche modo di essere il primo avamposto di un sistema che poi organizzerà la Regione, in maniera tale che siamo 5 milioni di abitanti e come la Danimarca, insomma la Regione Lazio possa essere una specie di piccola superpotenza della ricerca. È necessaria un'alleanza a tutti i livelli, quindi sicuramente il nostro primo alleato è l'Accademia, con la quale noi abbiamo intensificato tutti i programmi di ricerca. Questa è una bella opportunità per i ragazzi, quindi parliamo ancora una volta dell'università, un bel messaggio per l'Accademia che probabilmente deve guardare a un qualche cosa anche di nuovo all'interno dei propri programmi, però è una grande sfida, una sfida che passa, passa veloce e dobbiamo stare attenti a non perdere.